Siamo con il nuovo allenatore della Carnisvoi Sanremo, Eros Di Tardi. Allora Eros, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a questa scelta? Intanto per rimettermi in gioco perché è stato un anno fermo dopo l'esperienza di Arma dove facevo il secondo di Serie D ad Ascoli e quindi era l'opportunità di rimettersi in gioco e poi perché questa si sta comunque storica, quindi mi faceva piacere ricominciare di qua adesso. Come hai trovato l'ambiente? L'ambiente ragazzi, tanti li conosco, sono tutti con la voglia, cerchiamo di fare bene, la squadra secondo me è una buona squadra, speriamo di fare bene. La stagione scorsa non è andata molto bene, però bisogna rifarsi. La stagione scorsa c'era un altro allenatore e loro hanno iniziato purtroppo non benissimo, poi si sono ripresi ma alla fine non ce l'hanno fatta per un punto, mi pare non sono vissuti andare ai playoff che era il loro obiettivo. Grazie e in bocca al lupo.